In molti ci chiedete durante le nostre dirette o al termine di qualche nostro video nei commenti che ci regalate dei libri per poter approfondire le tematiche legate al mondo degli etruschi, alla Roma primitiva, insomma qualcosa su cui poter approfondire. Non è facile sempre darvi le indicazioni perché molti dei testi che potrebbero essere utili per voi sono usciti di produzione, non sono facili da cercare quindi perdonatemi se vi segnalerò qualcosa che non è più disponibile, costituisce comunque un punto di riferimento e potete tranquillamente consultarla e prenderla in prestito in biblioteca. Allora cominciamo da un libro di grande divulgazione sugli etruschi, l'ho già segnalato in un'altra occasione, ho avuto anche il piacere di presentarlo della casa editrice Giunti, Giuseppe della Fina, ha realizzato questo agilissimo volumetto, gli etruschi, 100 domande, in realtà sono molte più di 100 è un libro illustrato, pensato per i più giovani ma fornisce comunque risposte brevi, naturalmente sintetiche ma esaustive su quelle che sono le grandi tematiche della civiltà etrusca e quindi è un buon modo per cominciare, lo consiglio soprattutto per i ragazzi, i più curiosi. Il punto di riferimento però per chi invece si occupa degli etruschi e anche gli studi è che continua ad essere il manuale di Massimo Pallottino Etruscologia nella sua settima edizione che risale al 1984. È un testo comunque nonostante sia specifico e sia un testo universitario è anche però al tempo stesso un testo di grande divulgazione. Da questo sono scaturiti altri volumi nel 2012, un volume curato da Gilda Bartoloni l'introduzione all'etruscologia contiene una sorta di aggiornamento a più voci relativo alle tematiche concernenti il mondo degli etruschi tuttavia si tratta davvero di un testo estremamente specialistico che supera la divulgazione che è ancora caratteristica di questo importante manuale è davvero il pregio della chiarezza della lettura. Per quanto riguarda le popolazioni della prima Italia mi permetto di rimanere su Pallottino e indicare questa storia della prima Italia Rusconi libri, è un libro che all'epoca, questo è uscito nei primi anni 90, era non solo economico ma anche facile da reperire non vi so dire se sia ancora in commercio però contiene una sintesi piuttosto chiara devo però avvertire alcune interpretazioni si sono rivelate non del tutto corrette ad esempio l'interpretazione di un'iscrizione relativa ai Serdaioi ha portato Pallottino a soffermarsi sull'universo dei Sardi e della Sardegna che in realtà poi si è rivelato non del tutto pertinente quindi insomma anche i grandi studiosi nella necessità di interpretare e ricostruire fasi così antiche della nostra storia possono scegliere interpretazioni non sempre poi vagliate successivamente dalla critica un punto di riferimento per approfondire singole tematiche si deve a questo dizionario della civiltà etrusca curato da un grande studioso degli etruschi prematuramente scomparso Mauro Cristofani contiene voci con ampi approfondimenti su tanti aspetti della civiltà degli etruschi ad esempio questa è la voce dedicata al costume, al modo di vestire diciamo il tipo di livello è medio-alto diciamo essendo un'opera che risale all'inizio degli anni 90 è un po' superato sotto alcuni punti insomma soprattutto quelli topografici che riguardano la ricerca archeologica un classico, questo indubbiamente ancora facilmente reperibile in commercio e del grande maestro Mario Torelli che ci ha lasciato troppo presto il 15 settembre scorso e la sua storia degli etruschi e qui siamo ad un altissimo livello non si tratta di un testo di divulgazione, è molto più complessa la lettura rispetto al manuale etruscologia di Pallottino ma indubbiamente è una delle poche sintesi storiche disponibili proprio sugli etruschi quindi ne consiglio la lettura ai più appassionati chiarezza espositiva è una delle caratteristiche che connotano l'opera di Cristofani per cui ho aggiunto alla lista questo che potrebbe essere invece difficile da recuperare della Longanesi perché insomma ormai è stato edito parecchi anni fa gli etruschi del mare, una bella sintesi che approfondisce gli aspetti storici ed economici che hanno reso grandi gli etruschi e la loro potenza tra i testi più recenti di divulgazione alta ma non eccessivamente specialistica posso consigliare questo volume della Carocci Vincenzo Bellelli ed Enrico Benelli gli etruschi, la scrittura, la lingua e la società perché è interessante in quanto la prospettiva prevalente o comunque di grande rilevanza è data alla lingua e alle iscrizioni etrusche come strumento per la ricostruzione sociologica e storica abbiamo parlato tanto di Roma, di Romulus, delle origini della città la bibliografia è sterminata naturalmente Andrea Carandini ha dedicato negli ultimi anni tanti volumi anche divulgativi al tema delle origini rappresentano una prospettiva che non è condivisa da tutti ma è legata anche alle attività di scavo che ha condotto ai piedi del Palatino mi permetto però di segnalare due testi molto interessanti anche rispetto a ciò che vi ho detto poi magari faremo un approfondimento bibliografico specifico molto importante per capire la stratificazione delle fonti che c'è dietro in particolare Tito Livio questo volume di Robert Ogilvy Le origini di Roma che fa capire davvero molto bene il lavorio delle fonti che c'è stato su il tema delle origini e l'ultima opera di Pallottino prima dell'ultima monografia prima della sua morte sempre molto molto chiara e avvincente Origini e storia primitiva di Roma un'analisi del processo formativo dell'organismo urbano e sottolineo formativo perché Pallottino è quello che ci ha introdotto ad un'idea nuova intelligente della ricostruzione storica per quanto riguarda le origini delle civiltà che vanno interpretate non come processi di arrivo di una civiltà già formata ma come un lento e stratificato processo di formazione questa è la sua ultima opera siete tutti rimasti molto colpiti dalla notizia lanciata dall'ANSA dopo una conferenza all'Accademia dei Lincei sulle origini etrusche di Pompei è un tema noto dal Settecento quello delle origini etrusche di Pompei e di tante città della Campania mi permetto quindi di rinviare alla mostra tuttora in corso e lo sarà fino a maggio al MAN, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli da me curata agli etruschi e il MAN dove non si parla specificamente di Pompei se non in alcuni articoli perché è stato oggetto di una mostra che si è svolta a Pompei gli etruschi e il Pompei curata da Stéphane Vergè e Massimo Osanna nel 2018 ma si parla molto del tema degli etruschi in Campania in questo volume non solo attraverso le collezioni del MAN incredibilmente mi sono scordato di portarlo con me ma insieme a questo volume al catalogo della mostra è uscita anche una mia monografia la riscoperta degli etruschi in Campania dal XVI al XIX secolo sempre di electa si trova in tutti quanti i siti di vendita online di libri è dedicata proprio al tema del dibattito sulla presenza o meno di etruschi in Campania a partire dal XVI secolo quindi prima della scoperta di Pompei e di Ercolano fino agli inizi del Novecento quando diventa un dato concreto quello relativo alla presenza di etruschi in Campania a partire non solo dalle fonti ma i dati dell'archeologia e a questo dedicheremo prossimamente un ciclo di approfondimenti specifici perché mi sembra una materia di grande interesse visto il riscontro che ha avuto la notizia della Pompei etrusca bene insomma un po' di letture per Natale in modo da arrivare preparati alla riapertura del museo che speriamo avvenga il 15 gennaio